Come ottenere immediatamente 10 sterline che sono molto più di 10 euro di bonus con la carta Curve attraverso questo video. Benvenuti su Cryptovaluta Italia, benvenuti in un nuovo video. Come sempre prima di andare avanti vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdere video come questo. Vi ricordo che per poter ottenere questo bonus troverete il link referral nostro personalizzato di Curve che vi permetterà di guadagnare immediatamente 10 sterline. In questo video vi diremo naturalmente come poter ottenere questo bonus e soprattutto vi daremo alcune informazioni sulla carta Curve. Vi ricordo che poi il tutto può essere subito prelevato anche in euro o speso anche in euro. Innanzitutto cosa fondamentale cerchiamo di capire che cos'è Curve. Curve essenzialmente è una carta che collega tutte le tue carte di debito e di credito e funge da punto d'incontro per tutti i tuoi conti di pagamento così non dovrai mai cambiare banca. Tutte le carte diventano contactless e funzionano per esempio con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Con Curve ottieni un ottimo tasso di cambio quando viaggi e cashback dai tuoi marchi preferiti. Quindi essenzialmente questa carta ti dà la possibilità al suo interno di avere questa unica carta che poi la puoi usare anche quando sei in giro fisicamente sfruttandola senza portarti indietro con te le altre carte. Quindi per esempio immaginiamo che tu abbia altre carte che noi consigliamo le trovi per esempio in basso come Flowey, come Revolut per esempio. Ok tu puoi collegarle a Curve ok quando vai a pagare con Curve puoi usare i fondi di Revolut e naturalmente la carta fisica di Revolut non la devi avere con te. Fantastico. Detto questo in primis per poter ottenere il bonus tutto quello che devi fare è cliccare sul link che trovi in basso. Una volta fatto questo clicca qui e devi andare a scannerizzare questo QR code. Se lo farai da smartphone ti dirà naturalmente di andare ad inserire poi di scaricare l'app perché naturalmente andrai a scaricare l'app. Effettua la classica registrazione inserendo tutti i dati corretti. Una volta fatto questo verificato naturalmente il tuo conto tutto quello che devi fare è ricaricare il tuo conto. Ti consiglio di effettuare una ricarica di 5-10 euro decidi tu naturalmente da questo punto di vista in quanto puoi comunque puoi attivamente usarlo questo conto e ha molto senso anche in ottica di diversificazione. E nel momento in cui effettuerai la prima transazione una transazione qualsiasi io ti consiglio di una transazione di almeno un euro riceverai questo bonus di 10 sterline. Ok quindi molto semplice clicca sul link in basso ripetiamo clicca sul link in basso scarica l'app ti registri. Una volta effettuata la registrazione ma mi raccomando fallo dal link in basso perché se no il bonus non lo prendi deposita all'interno di curve effettua una transazione qualsiasi anche online oppure con la carta fisica con la carta virtuale decidi tu e praticamente riceverai questo bonus. Ora cosa molto importante abbiamo spiegato più o meno come funziona la carta ma ti faccio vedere anche le differenze innanzitutto si vede visivamente questa è la forma della carta questa è la carta gratuita e poi ci sono le carte a pagamento. Quindi comunque puoi avere quella gratuita che non costa nulla non ha costi di abbonamento annuali e ripeto in ottica di diversificazione è importante avere i propri fondi su più carte conto dove tu non spendi nulla ma sei naturalmente tranquillo che qualsiasi cosa succeda ad una carta o un conto comunque non perdi tutti i tuoi fondi. Lo diciamo nelle crypto figuriamoci nel mondo finanziario dove diciamo è molto più semplice e magari qualcuno possa rubarti la carta di credito. Detto questo la differenza sta in primis nel prezzo partiamo da un prezzo gratuito fino a un prezzo di 15 euro al mese naturalmente dipende dalle tue esigenze ok perché se tu hai delle esigenze particolari potrebbe avere senza avere una carta a pagamento. Io di solito consiglio almeno una carta a pagamento scegli magari quella che fa il caso tuo per avere qualcosina in più e la utilizzi come carta principale. Essenzialmente con curve hai la possibilità di avere fino a due carte in uno quella gratuita con curve curve x fino a cinque carte in uno con gli altri due abbonamenti carte illivitate. Per quanto riguarda la consegna della carta fisica che ti ricordo c'è anche una virtuale che puoi usare per quanto riguarda l'abbonamento quello gratuito pagherai solo la prima volta cinque euro. Nelle altre tre la consegna è gratuita naturalmente vi ricordo che non è obbligatorio ottenere la carta fisica puoi usare quella virtuale funziona con tutte le carte mastercard e visa funziona naturalmente con google play samsung pay e apple pay app sicura per ios e android tutela del cliente curve fino a 100.000 euro. Questo è fondamentale dia di rifiuti la modalità anti imbarazzo ora non so che cosa voglia dire anti in credo anti riciclaggio una cosa del genere dovrebbe essere le traduzioni purtroppo lasciano il tempo che trovano torna indietro nel tempo sposti i pagamenti precedenti tra le tue carte quindi praticamente puoi fare fino a 30 giorni fino a 60 giorni fino a 90 fino a 120 cioè se tu hai effettuato un pagamento da una carta sbagliando la volevi effettuare dall'altra puoi naturalmente cambiare il tutto e quindi spostare i tuoi fondi da una carta all'altra accesso ai tassi fx equi possono essere applicati commissioni aggiuntive in questo caso fino a 1000 euro fino a 2000 e qui illimitata senza canone prelievi bancomat esteri senza commissioni quella gratuita guardate quella gratuita comunque 200 euro mese non è poco 200 euro mese per l'altra fino a 600 euro mese per l'ultima che sarebbe la carta metal ok che generalmente in queste carte è la top carta regole intelligenti decidi quale carta spendere e quando puoi inserire delle regole particolari una regola per la carta gratuita 5 per la carta x e poi limitato per le altre due aggiungi i tuoi biglietti da visita non c'è nella carta caduta nelle altre c'è curcash hai un 1% di cashback e questo è molto importante ok perché puoi nella sezione questa qui curve black hai 3 rivenditori selezionati illimitati mentre qui hai 6 rivenditori selezionati che li trovi nell'app parliamo dell'1% di cashback quindi voi immaginate di unire la carta di crypto.com per esempio a questa di curve dove il cashback di cripto.com e questa di curve insieme fai un acquisto ti ritrovi naturalmente con un bel ritorno lo puoi fare anche con la carta di binance che ha un 2% per esempio a salire e qui hai un 1% questi sono comunque fondi che vanno a essere messi insieme quando devi fare anche un acquisto importante capisci bene che ha molto senso pagare questi 15 euro puoi avere le ricompense in criptovalute puoi guadagnare ricompense in diverse cripto solo bitcoin allora quella gratuita non c'è nella seconda solo bitcoin e nelle altre due invece è per qualsiasi cripto immaginiamo assicurazione di viaggio in tutto il mondo nelle altre due quindi questa può essere molto utile assicurazione del telefono cellulare nell'ultima l'accesso lounge che è un po come la carta di crypto.com nell'ultima l'assicurazione franchigia noleggio audio nell'ultima carta metallica premium da 18 grammi con due colori differenti nell'ultima quindi queste sono le differenze naturalmente a seconda di quelle che sono le vostre esigenze andate a scegliere la carta migliore per poter ottenere il bonus vi ricordo che basta semplicemente questa prima carta che è totalmente gratuita ripeto voi vi cliccate sul link in basso vi registrate verificando i vostri dati i vostri documenti depositate 5 euro 10 euro quello che volete voi effettuato una qualsiasi transazione online anche e riceverete 10 sterline con questi 10 sterline potete prelevare tutte e tanti saluti oppure vi ordinate la carta fisica oppure vi ordinate una di queste tre versioni se è una cosa che naturalmente volete utilizzare il conto si può chiudere facilmente in qualsiasi momento e quindi ragazzi è un consiglio che vi posso dare prendetevi questo bonus qui da criptovaluti italia è tutto ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto